Grazie a tutti. cecuno cuore e' strutturare ok poltomaglio ai spagnolo ai namasté namasté mi ha detto chi ti ha detto di essere insieme per l'interessore e siamo tutti collegati facciando misure isterno a l'acqua la cosa hai questa è l'immagine dell'angelo questo è l'ordine, fallo interativo invece questo è un invito, facciamolo insieme la cucina della mamma questo è invece il cibo preconfezionato? da diciamo, come i cristalli si modificano a seconda delle parole che sento quello che vedo Sì, che sono tutti i nostri amici, quindi non sono tutti i nostri amici. Sì, che sono tutti i nostri amici. Sì, che sono tutti i nostri amici.